Tanti sindaci di diverse città francesi, ma anche rappresentanti istituzionali dei comuni della Picardier, regione a nord della Francia. E' la nutrita delegazione che questa mattina è stata accolta nei locali della cooperativa La Madre Terra di Sciacca, dove tra le altre cose hanno avuto la possibilità di degustare uno dei prodotti di punta, l'olio extravergine d'oliva. L'iniziativa si inquadra nell'ambito di un gemellaggio tra questa zona della Francia e il Comune di Cattolica Eraclea, dove questa sera ci sarà la sottoscrizione ufficiale dell'accordo. Comune di Cattolica Eraclea, che su iniziativa del consigliere comunale Giuseppe Vizzi, che è anche funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura e promotore del gemellaggio, ha ritenuto di inserire tra le tappe proposte alla delegazione francese la visita presso la cooperativa La Madre Terra di Sciacca, presieduta dall'agronomo Roberto Butera, riconoscendo a questa realtà un importante ruolo sul territorio nel settore agroalimentare. Sicuramente quando si hanno degli ospiti si cerca di offrire l'eccellenza dei territori e da uno studio approfondito in materia abbiamo rilevato che la Madre Terra è una di quelle realtà che merita apprezzamento e viene onorata da una visita di 50 persone, turisti francesi, accompagnate da una delegazione di sindaci e hanno avuto modo di constatare che ne è valsa la pena. Ed è con grande interesse che la delegazione francese ha visitato questa mattina i luoghi della cooperativa La Madre Terra, rimanendo affascinata dai prodotti del territorio. A capo della delegazione il sindaco della città di Vaughan a Minoua, Daniel Leleo. Per noi questa è la seconda visita di stamattina perché abbiamo appena visitato dove si fa il pesce a Sciacca e quindi dopo di che abbiamo tanto apprezzato, dopo di che abbiamo fatto il tappo qui all'orificio per completare questa visita mazzinale e quindi abbiamo tutti apprezzato l'eccellenza di questo territorio e la qualità, c'è la massima, l'ottima qualità dell'olio d'oliva di Sciacca che è raro, diciamo, si fa raro in giro. E nelle intenzioni della delegazione francese c'è quella di allacciare rapporti commerciali con le aziende del nostro territorio. I vostri prodotti sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, ha detto il sindaco Leleo. E allora, bian sûr, la nostra intenzione è di fare... Noi abbiamo apprezzato molto questi vostri prodotti e speriamo di portarli prima o poi in brancia per far assaggiare i nostri compatrioti perché avete dei prodotti eccellenti, quindi è difficile fare meglio.